ma ciao siete qui siete qui con capitan cioccolato scelto da voi e oggi capitan cioccolato vi racconterà una storia o anche no in realtà non siamo qui per parlare di storie come al solito scusate per il casino ma capitan cioccolato non è riuscito ancora a mettere a posto a fare un trasferimento un traslogo pulito in questo nuovo ufficio questa nuova casa ma cosa farà capitan cioccolato oggi se non affrontare insieme a voi un altro percorso come parlo un altro percorso tortuoso in un'altra avventura quale un super tuber più conosciuto come è su patuba su patuba lanciamo la sigla è supereroe o super cattivo bene bambini per catturare la vostra attenzione capitan cioccolato ora farà dei trick così che voi non schippate in avanti dopo questi magici trick ho catturato la vostra attenzione capitan cioccolato ha catturato la vostra attenzione e ora sicuramente non schipperete in avanti se volete vi porto anche a fare un giro nel pannello scorrevole che ha fatto zio peo pensate un po voi ma non so se ci serve in realtà scorrere molto perché qui è qui che affronteremo il su patuba dunque bamboline per quanto riguarda la votazione di oggi vince surreal power conosciuto ormai come surri e basta secondo me il nome potrebbe ormai cambiarlo a surri e basta voi no 71 per cento come supereroe come ricordo che all'inizio della votazione era molto combattuto in quanto conquilino di stepney potevano essere due super cattivi nella stessa casa invece no si è venuta a creare una situazione piuttosto cioccolatosa ovvero un super cattivo che vive con un supereroe ma pensate un po ma soprattutto tra i poteri proposti bambini vince la nudità accecante lui flutua nudo su un comodino come giusto che sia come il meme che lui è che rappresenta disorientando i nemici anche gli altri poteri erano senza dubbio molto carini ma davo un po per scontato che vincesse questo capitan cioccolato ha sempre ragione ma adesso io direi che se anche voi siete d'accordo possiamo iniziare a disegnare il corpo di questo surri iniziamo quindi con la posa lo schizzo capitan cioccolato vi manda un bacio e vi dice buono schizzo a tutti buono schizzo un po ambivo ma ci stanno suona bene buono schizzo 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 Oh, ma salve! Ma siete già tornati dallo schizzo? Eh, scusate, mi stavo giusto gingillando un pochino, non troppo Capitan Cioccolato non si gingilla troppo, giusto un pizzico Beh, come avete visto, la posa è stata un po' difficile, non tanto da decidere Avevo già presente che volevo una posa, un po', no? Un po' così, un po' accattivante, no? Ci sta, ci sta benissimo, ma se avete visto bene la registrazione Ho dovuto distorcere tante cose perché non mi veniva questa posa Non mi venivano le proporzioni, non mi veniva niente Chissà perché oggi proprio così, non lo so È che forse Capitan Cioccolato non è forse all'altezza di Capitan Oceano, probabilmente Anche Capitan Oceano ha fatto parecchi errori nello scorso SuperTuber, c'è da dire Ma chissà se Capitan Universo può fare di meglio Lo sapremo in un altro momento Per ora Capitan Cioccolato mi dice Ora passiamo all'inchiostrazione, bambini Che verrà fatta con tratto esclusivamente marrone che poi aiuta al colore In quanto è tutta pelle Essendo tutta pelle, non avendo una palla di pelle e di pollo Ok, non c'entra niente Essendo tutta pelle e quindi non avendo vestiti Userò sempre un tratto marrone per la line art, per l'inchiostrazione In modo che poi mi risalti il colore della pelle, no? Quindi iniziamo ad inchiostrare Capitan Cioccolato Che vi augura? Cosa vi augura Capitan Cioccolato secondo voi? Buona inchiostrazione? Magari aziopeo, ma a voi Vi auguro di provare piacere mentre che vedrete il prossimo La prossima inchiostrazione, il prossimo segmento di questo video E questo è quanto, iniziamo l'inchiostrazione tra 3, 2, 1 Via! Oh! Oh! Ma salve! Ma siete già tornati, scusate Questo è il mio punto di riflessione E il punto di riflessione preferito di Capitan Cioccolato Mi metto lì e penso a che senso ha la mia vita? Cioè, sto con una tutina verde che mi serve per fare quegli effetti fighi in video E sto facendo, sì, la domanda è giusta Cosa sto facendo della mia vita? Questo non lo sappiamo Eppure? Eppure facendo queste cavolate Essendo Capitan Oceano Universo O Cioccolato come oggi? Beh, siamo arrivati a 100.000 iscritti, bambini Per questo vi ringrazio Ed è in arrivo un video speciale Che ancora non ho pensato benissimo Ma arriverà Arriverà! Intanto vi dico L'inchiostrazione è sempre quella cosa semplice Che uno cerca di accelerare Perché non sono altro che tratti A qualcuno magari può interessare di più A qualcuno di meno Ma questo? Ma chi sono io per giudicare? Dopotutto sono soltanto Cioccolato io Chi sono io per dire cosa può piacere a voi bambini? Non sono nessuno Ma detto questo Ho deciso che Essendo tutta pelle Per colorare questa volta Mi impegnerò molto sul color pelle Non c'è cosa più bella per me almeno Di colorare la pelle Quando ti riesce il colore della pelle 60% del disegno è fatto E quel colore a cui devi dedicare più tempo Ma che ti dà anche più soddisfazioni Poi al secondo posto probabilmente ci sono i capelli Però al primo posto c'è sempre la pelle Quando ti riesce una bella pelle colorata Bella rosa Che vedi che è viva Beh il disegno già ha una marcia in più Già partito carico Ed è questo quello che Capitan Cioccolato farà Si impegnerà molto per il colore della pelle Di questo è sul rinudo E a voi piacerà bambini Vedrete vedrete State a vedere perché noi iniziamo la colorazione Tra E tre E due Uno Via Via Grazie a tutti. Quando zio Peo colora, in Africa un bambino si mangia una mora, in compagnia di una suora, che in tv guarda e dora l'esploratrice, pensa un po'. Oh, mi avete beccato proprio nel momento di creatività più ampia, più piena di Capitan Cioccolato. Capitan Cioccolato voi non lo sapete, cioè io, ogni tanto ha i suoi momenti di creatività che devono esplodere, e quindi deve prendere questa pseudo chitarra, che lo so che può sembrare uno scaffale dell'Ikea, ma non è. Questa qua produce suoni angelici. Sentite? Visto? Questo è un suono angelico. Ed è così che Capitan Cioccolato scrive le basi per Fedez. Voi non lo sapete, ma Capitan Cioccolato si dedica a queste cose ogni giorno. Detto questo, detto questo, la colorazione è finita. Il disegno è concluso. La pelle è magica, secondo me. Poi non so voi, mi direte anche voi. È venuto molto bene, ho giocato molto con luce e ombre, soprattutto con una luce molto forte da un lato, e l'ombra quindi tutta dall'altra, con i suoi riflessini di luce fredda. Luce fredda quindi azzurrina, rosa magari, che io sono un po' fissato ultimamente con l'ombra rosa. Non so se l'avete notato neanche vagamente negli ultimi, non lo so, 20 disegni. Se non l'avete notato, beh, avete dei problemi di daltonismo, forse. Questo non lo so, questo sta a voi. Forse Giulio non lo ha notato. Giulio, hai visto che mi piace rosa un pochino, no? Secondo me è anche colpa di Sabrina con tutta quella roba rosa. Rosa di qua, rosa di là, rosa tenda di là. Quindi, bambini, è più o meno giunto il momento di chiudere questo video. Ahimè, che amarezza, che tristezza. Cioè, io lo so che voi volevate passare un altro po' di tempo con Capitan Cioccolata. Ma Capitan Cioccolata ha da fare. Cioè, anche Capitan Cioccolata ha i suoi doveri e i suoi diritti. Soprattutto doveri, perché adesso io vado ad accompagnare le vecchiette ad attraversare la strada. Da bravo cioccolato, come tutti i cioccolati fanno. Detto questo, vi lascio al disegno finale, che mostro come al solito alla fine. Anche se l'ultimo Super Tupper mi sono scordato, perché l'ho finito alle 4 del mattino. E oggi non volevo fare quell'errore, perché io ieri notte, alle 2 di notte, ho finito questo disegno. E ora sto registrando la chiusura di questo video. Questo è quanto, bambini. Io vi ringrazio ampiamente per aver visto un'altra volta questo uomo. Anzi, questo cioccolato. Questo cioccolato che scegliete davanti a tutti. Magari potevate scegliere quello, non lo so, norvegese, quello svizzero. Invece avete scelto questo qua. Questo ibrido sudamericano-italiano. Bene, vi ringrazio. Oggi ho parlato davvero in modo ampiamente strano in questo video, devo dire. Non so cosa mi sia successo. Sono un po' più portato oggi verso la teatralità del cioccolato, forse. Bene, se questo disegno vi è piaciuto davvero tantissimo. Lo avete amato, lo avete adorato, lo avete assaporato. Beh, mostrate tanto amore che non si vede perché sono di cioccolata. Amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Ma soprattutto sapete che non vi dovete scordare soprattutto una cosa. E ho detto soprattutto due volte per sottolineare un altro soprattutto. Che questo era Electric. In realtà no, questo era Capitan Cioccolato. Scusate ma adesso torno a riflettere. Scusate ma adesso torno a riflettere. Scusate ma adesso torno a riflettere.